Il Natale è giusto che i palermitani possano godere già da oggi, giorno dell'Immacolata dei segni del Natale di cui questo mercato è diventato anno per anno grazie agli amici dell'artigianato è diventato un punto di riferimento per gli acquisti festivi e natalizi ed ecco perché abbiamo inaugurato nel segno di un Natale che mi auguro possa essere sereno e felice per tutti i palermitani in attesa di un anno migliore di quello che ci lascerà tra qualche giorno Una manifestazione importante che serve sicuramente a rendere viva la nostra città attraverso la collocazione di questi allestimenti La Pia Magliocco è un'arteria importante e centrale per la nostra città e ringraziamo Contartigianato per averla fatta rivivere con la loro manifestazione